Sino quest'ora, l'estate è sempre un mese particolare in cui c'è una recrudescenza di furti e di raggiri. Qual è la situazione nella nostra provincia? Come Polizia di Stato siamo sempre vicino alle fasce deboli, quindi consideriamo tutti vittime del reato fasce deboli. Il periodo preso in considerazione dall'1 gennaio a tutto agosto dell'anno scorso, confrontando con lo stesso periodo di quest'anno, c'è stata una diminuzione del 25%, il che significa che tutte le forze messe in campo, dalle volanti, dal reparto prevenzione crimine, anche dalle squadre nautiche che stanno sul litorale, hanno dato un effetto veramente positivo. Abbiamo tratto in arresto molte persone in flagranza di reato, ma quello credo che sia l'operazione più importante è quella fatta con l'arresto di 5 pregiudicati baresi, esperti in furti seriali. Sapete la tecnica qual era, di prendere le chiavi nella macchina e quindi poi estendere l'operazione all'interno delle abitazioni. Questo modus operandi permetteva veramente di depredare completamente tutti i beni che c'erano negli appartamenti. Allora la prevenzione è sempre l'arma migliore e quindi i consigli che voi potete dare alla cittadinanza sono estremamente utili. Quali sono e quali si possono mettere in campo? Noi abbiamo sempre un vademecum per cercare di arginare questo fenomeno come consigli generali che diamo normalmente a tutti. Prima di tutto non lasciare mai le chiavi nella serratura esterna dell'abitazione e quindi chiudere la porta all'interno. Poi un sistema di bloccaggio delle tapparelle e delle finestre in genere in modo da non poterle aprire dall'esterno. L'altro consiglio che diamo e su questo ci tengo molto è installare un sistema di allarme collegato al telefono cellulare ed è un sistema che costa anche relativamente poco. Non aprire la porta a sconosciuti o a sedicenti persone che rappresentano enti come può essere il gas, la luce, il telefono, le poste o altri servizi e in relazione a quell'operazione dei baresi non lasciare le chiavi dell'abitazione in macchina. Poi per qualsiasi altro motivo, dubbio che uno possa avere in merito a questa cosa, fare il classico numero 113, 112, 115, 118. Fra poco entrerà in funzione il 112, quindi anche molto più semplice fare il numero e chiedere consigli sulla situazione specifica. Lei a riguardo è sempre stato un fautore della collaborazione attiva del cittadino nella prevenzione dei reati. Direi non solo fautore, ma ha dato anche i suoi frutti, proprio iniziando dall'anno scorso, ma finendo poi anche qualche arresto che abbiamo fatto ultimamente, di questa collaborazione e questo senso civico che deve contraddistinguere qualsiasi cittadino. Su questo ci tengo molto, infatti durante la festa della polizia ho premiato alcuni cittadini che si sono particolarmente distinti in operazioni di questo genere. Uno aveva sventato con la sua collaborazione un reggiro enorme di ventita di gioielli. L'altro invece, l'altra persona, si era resa protagonista di questa collaborazione nel segnalarci quattro cileni che stavano in un cortile di un condominio. E poi sapete qual è stato l'evento successivo, quello degli arresti in flagranza con qualche fuga un po' nella città di Pesaro. Un'operazione particolarmente brillante che ha contraddistinto la vostra azione sul territorio è stata l'operazione Elvezia. Sì, è stato un bellissimo lavoro fatto dalla squadra mobile su tre pregiudicati seriali che avevano in questo lascito ereditario il loro cavallo di battaglia. Dopo lunghe indagini, dopo aver scoperto una serie di truffe, siamo riusciti a costruire il loro modus operandi, quindi di entrare nella loro mentis per poi denunciarli come associazione delinguere. La Procura ha preso in pieno le nostre risultanze investigative. Diciamo, ha dato parecchio respiro. Dall'ora, dall'anno scorso, o meglio da un po' di tempo, non ci sono state più segnalazioni di truffe di questo genere. La prevenzione comunque rimane sempre l'arma migliore? Certo, prevenire è meglio che chiaramente sanare le ferite di qualcosa di grave. Più abbiamo un controllo capillare, più possiamo prevenire e intervenire nel caso in cui succede qualche fatto particolare.